Non vedente era finito accidentalmente nella notte in un dirupo in una zona particolarmente impervia. Si tratta di questo cagnolone nero, come detto, cieco. Sono subito intervenuti in suo aiuto i vigili del fuoco del comando di Verbania e in particolare del distaccamento di Omenia e successo durante la scorsa notte. L'incidente nella frazione di Strona, nel comune di Loreglia in Vallestrona, sulla vecchia strada da Luzzogno a Chesio. Purtroppo, a causa delle tenebre, non è stato possibile ai vigili del fuoco individuare subito l'animale. Alle prime luci dell'alba, questa mattina, gli stessi si sono calati in sicurezza, agganciati con una corda e sono riusciti a raggiungere il cane lungo le pendici del dirupo. Prendendolo in braccio, lo hanno portato in salvo. Dopo il recupero e dopo una carezza affettuosa sul capo da parte dei pompieri, il cane è stato consegnato, un po' spaisato e intimorito, ma in apparenti buone condizioni, al proprietario.